L'8 marzo verrà ricordata la storia di Santina Cannella. Lei a Caltanissetta dalle 10 sarà dedicato un raduno davanti alla chiesa San Giuseppe e poi in corteo verso Via Firenze si concluderà il percorso con la deposizione di una targa in sua memoria. L'iniziativa continuerà nel pomeriggio dalle 18 alla sala comunale Polo Borsellino di San Cataldo dove verrà presentato il libro Ti bacio quando torno di Salvatore Lombardo e Cataldo Loiacono. Qui seguirà il dibattito sulla violenza di genere e sul patriarcato durante il quale interverranno l'avvocatessa Valentina Matrascia e la professoressa e sociologa Graziella Priulla. Insieme a figure esperte, infatti, analizzeremo come il tema della violenza viene affrontato all'interno delle sentenze con un confronto tra ieri e oggi e affronteremo temi importanti, ciò che spesso sta alla base della violenza come la cultura dello stupro e il sessismo di cui ancora la nostra società è tristemente intrisa. Temi che vanno affrontati ogni giorno per combattere ed abbattere finalmente il patriarcato e garantire così i diritti di tutte le donne. L'iniziativa organizzata da Democratiche, Quartiere, Providenza San Giuseppe e Associazione Galatea Onlus con il patrocinio dei comuni di San Cataldo e Caltanissetta, ricorda la storia di questa giovane ragazza che l'8 marzo del 1954 fu assassinata a soli 15 anni proprio nel quartiere Providenza a colpi di pistola all'uscita da scuola, morta per mano dell'uomo che platonicamente si era invaghito di lei l'estate precedente. Santina era nata a Marianopoli nel 1938, sognava di diventare una dottoressa, lei che studiava liceo classico a Caltanissetta e che in quel tragico giorno di marzo di 69 anni fa fu assassinata. In Italia nel 2022 sono stati 273 gli omicidi, 104 di questi sono stati femminicidi.